Salve, ti voglio bene, è meglio un sorriso fatto ai vivi che cento ceroni accesi ai morti. Questo ce lo rivela madre Teresa di Calcutta, ora santa. Ascoltiamola. Mi sono trovata per strada di fronte a un uomo radicchiato per terra, scheletrito dalla fame, con respiro impercettibile. Non potevo neppure rimuoverlo. Mi sono chiesto allora che cosa potevo almeno dirgli. Forse una parola che quell'uomo non avesse mai sentito in vita sua. Una parola che lo consolasse un po' prima di morire. Allora gli ho preso delicatamente il volto tra le mie mani e gli ho sussurrato all'orecchio. Ti voglio bene, mi sorriso e morì. Non dimenticherò mai quel sorriso risuscitato da quelle tre parole. Ti voglio bene. Ciao. 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 Ciao.